ben ritrovati all'angolo della creatività oggi cercheremo di realizzare una lavagna per poter fare le fad da casa cosa ci occorre? un supporto in questo caso ho trovato del cartone se non l'avete già nero va benissimo anche per questo altro colore colore acrilico nero qualcosa per mescolare dell'acqua e poi del gesso bianco io qua ho già del gesso iniziato quindi metterò il tutto qua dentro rendiamo cremoso il gesso mettendo un goccino di acqua per volta deve diventare cremoso ma non liquido deve avere la consistenza di uno yogurt in sostanza questo era già abbastanza cremoso, perfetto vedete? deve essere così una volta che l'abbiamo reso tale, l'acqua non ci serve più, la diamo alle nostre piantine metteremo l'acrilico nero la lavagna deve essere nera quindi cercate di metterne una quantità sufficiente perché il risultato non deve essere grigio altrimenti si vede male speriamo che basti se no siamo del gatto e mescoliamo molto bene ce ne serve di più andiamo a prenderne un po' adesso procediamo alla seconda mano è un grigio scuro di più non sono riuscita a ottenere in realtà ci vogliono molti barattoli di acrilico nero ho aggiunto della china eventualmente faremo con i gessetti colorati vediamo alla fine cosa salterà fuori